A distanza di un anno dalle elezioni amministrative, il Passo Possibile, il gruppo di opposizione del Consiglio Comunale dell'Aquila, si rafforza in nome di un nuovo corso e progetto politico all'interno dello stesso centro-sinistra. Il Passo Possibile ha infatti acquistato pezzi da 90 del Partito Democratico. Americo Di Benedetto, ex candidato sindaco per il centro-sinistra alle scorse elezioni amministrative, Emanuela Iorio, già assessore della Giunta Celente e candidato più votato del PD in Consiglio Comunale, Tonino Nardantonio, punto di riferimento della sinistra locale nelle frazioni. La mancanza di dialogo e condivisione delle scelte all'interno del PD locale e regionale e lo sbandamento del partito a livello nazionale sono i due temi importanti della ricomposizione nel nuovo progetto politico, vissuto da ognuno dei protagonisti secondo la propria esperienza e aspirazione politica. Dopo un anno di attività in Consiglio Comunale c'è l'esigenza di permettere a tutti di poter interloquire, rappresentare i problemi e declinarli nella maniera migliore possibile, al di là delle posizioni che si occupano. Ma non nel profilo cittadino, perché bene o male ognuno ha cercato di fare il suo lavoro? Io vedo, ho visto nebulosità sull'operato della regione, per esempio, non da parte di chi fa riferimento alla città dell'Aquila, ma a un livello un po' più diffuso che ha poi prodotto quella situazione incomprensibile pure della competizione al Parlamento, al Senato nello specifico del Presidente della Giunta regionale. Io ero fermamente contrario, sapevo che ci sarebbero stati dei problemi perché c'era un misurare la forza in un discorso totalmente diverso. Noi dobbiamo andare a raccogliere il lavoro fatto in regione, la parte buona del lavoro, invece ci siamo confrontati su una posizione politica che lascia invece ai sentimenti, diciamo così, del consenso che sono poco legati alle logiche dell'attività amministrativa. E oggi stiamo amministrando da sconfitti, che è una cosa che non è mai accaduta in politica. Vogliamo stare con la gente, vogliamo continuare quel progetto che sia alle primarie che al primo turno abbiamo sostenuto con Amerigo, cercando di riportare la politica tra la gente, la politica quella che parla con la gente, cosa che ultimamente nel Partito Democratico si è perso. Il partito leader dell'inclusione, di ascoltare tutti, sentirsi inascoltato è stata per me molto dura, quindi questo è uno sfogo diciamo però ragionato. A chi si riferisce dicendo così? Si riferisce ad esempio al segretario Stefano Albano? Guardi, sicuramente nulla di specificamente contro il segretario comunale, però il metodo generale che ha comportato che in più di un'occasione si sia fatto finta che non sia successo nulla, dopo diverse sconfitte, perché partiamo dalle comunali, poi arriviamo al 4 di marzo, e si va avanti e sembra che non sia successo nulla.